ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare salovit di fas international spa ultimo aggiornamento 4 marzo 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni ingredienti a cosa serve salovit è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la fertilità e la riproduzione è commercializzato in italia dall'azienda di fas international spa informazioni commerciali titolare di fas international spa concessionario di fas international spa categoria di appartenenza integratori per la fertilità e la riproduzione forma farmaceutica compressa confezioni salovit blister da 15 compresse gialle più blister da 15 compresse verdi indicazioni salovit è un integratore alimentare a base di vitamine aminoacidi minerali estratto di curcuma clorofila e coenzima q10 in particolare può essere utile in caso di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fa bisogno dei suoi componenti ingredienti compressa gialla arginina mg 400 vitamine mg 30 coenzima q10 mg 20 vitamina mcg 450 vitamina b6 mg2 acido folico mcg 200 vitamina b12 mcg 1 silenio mcg 82,5 curcuma e s mg 5 di cui curcumina mg 4,75 compressa verde arginina mg 200 carnosina mg 200 vitamina c mg 100 zinco mg 12,5 clorofila mg 2 fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato